buongiorno oggi siamo in tanti siamo in sei moschettieri l'ultima tappa di questa bellissima quattro giorni si va da picciano che sta alle nostre spalle lì c'è un monastero e fino a matera 28 chilometri è una tappa non durissima dal punto di vista di dislivelli credo ma più perché è molto esposta al sole per cui fa caldo ma insomma neanche tanto c'è nulla in confronto alle spianate del po' di quest'estate lungo gli apostumi va bene insomma è quasi un peccato finire qui però insomma questa tappa sarà ricchissima e piena di cose da vedere poi l'arrivo insomma io una vita che voglio andare a matera non ci sono mai stato per cui ragazzi se vi girate fate un saluto alla di francigena eccoci andiamo ci vediamo ci vediamo tardi per gli aggiornamenti ciao a tutti